E' giunto il momento di dimostrare chi siamo, una controcultura. Una risposta alla normalità dell'esistenza. Siamo diversi. Ognuno di noi è diverso. E sono le nostre differenze a renderci unici. A rendere la nostra espressione un'irrefrenabile forza rivoluzionaria. Abbiamo la capacità di dare fuoco al mondo un giorno e di non darlo un giorno dopo. Siamo quelli che traducono i sogni e gli danno vita. Non dobbiamo ascoltare chi ci definisce sotto la stessa corrette. Non dobbiamo lasciarci rinchiudere in un singolo genere. Questo è il modo in cui comunichiamo. E' il linguaggio che ci accomuna. Ed è ora di far sentire la nostra voce. La nostra arte non può essere ridotta ad una sola forma. Non siamo replicabili. Non siamo seguaci. Siamo senza limiti. Siamo quelli che lasciano il segno.